Dal tour nelle province toscane al patentino digitale nelle scuole, alla vigilanza sulla par condicio alla risoluzione delle controversie. Il bilancio di un anno di attività del Corecom Toscana presentato nel Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegasol. Un anno di attività anche per il nuovo comitato insediato il 29 giugno 2023, il cui presidente Marco Meacci ha illustrato i punti più importanti raggiunti in questi 12 mesi. È stato l'anno della ripresa delle attività, dell'insediamento del nuovo comitato che ha lavorato in modo molto corale, con grande unità di intenti, sempre all'unanimità e abbiamo avviato una serie di iniziative. Una è quella di far conoscere ulteriormente il Corecom in tutta la Toscana. Abbiamo inaugurato questo Corecom tour in tutte le province della Toscana in collaborazione con l'UPI e che ci ha permesso di venire in contatto con tante realtà, sia degli operatori dell'informazione, ma delle istituzioni, delle scuole, delle imprese, in modo da far conoscere i tanti servizi e tante attività che il Corecom svolge. Poi abbiamo fatto vari momenti formativi in vista della Parcondicio con l'ordine dei giornalisti, abbiamo messo in piedi quattro iniziative in tutte le aree più importanti della Toscana di formazione per la Parcondicio che chiaramente è stato uno degli impegni maggiori degli ultimi due mesi della campagna elettorale e il Corecom ha svolto una funzione di vigilanza, di controllo per garantire il pluralismo e l'equilibrio e in particolar modo anche per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. In gran parte poi ci sono stati adeguamenti spontanei da parte delle varie amministrazioni, per cui un rapporto molto di collaborazione e di interazione. Poi abbiamo messo in piedi varie iniziative, vari bandi che continueremo e poi diciamo che oltre alle tante attività svolte in prospettiva già stiamo lavorando sull'autunno, in particolar modo a fine settembre inizio ottobre ospiteremo un convegno nazionale organizzato insieme ad Agicom su tutto il tema delle conciliazioni telefoniche che è uno dei grandi settori di maggiore impegno del Corecom. E poi faremo gli stati generali dell'informazione, abbiamo già dato l'incarico a IRPET di fare un'indagine conoscitiva e recognitiva su tutto il sistema dell'informazione in Toscana e poi anche rispetto alle conciliazioni, fra l'altro sottolineo che in questo anno sono stati restituiti oltre 800 mila euro ai cittadini e alle imprese attraverso le conciliazioni, l'83% si è addivenuti a degli accordi attraverso questa fase, però vogliamo far conoscere sempre di più questo servizio che non sempre i cittadini conoscono, che è un servizio gratuito che Corecom svolge. Per cui sulla falsariga del Corecom Tour poi faremo anche una specie di concilia web tour in Toscana, almeno in alcune delle realtà più importanti e più significative. Sottolineo con particolare soddisfazione a nome di tutto il Comitato anche del rapporto molto positivo sia con la Quinta Commissione Consigliare che con il Consiglio regionale, visto che gli ultimi atti del Corecom sono stati approvati sempre all'unanimità all'interno del Consiglio. Per cui vogliamo continuare ancora con più impegno, con più entusiasmo, perché il Corecom può svolgere una funzione di importanza a servizio di tutta la comunità toscana. All'incontro erano presenti il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e la Presidente della Commissione Cultura Cristina Giacchi. Intanto voglio ringraziare il Presidente Meacci, voglio ringraziare tutti i componenti del Corecom per l'importante lavoro che stanno portando avanti per le cittadine e i cittadini toscani, sia per le attività ordinarie importanti che il Corecom svolge a tutela delle cittadine e dei cittadini, sia anche per le tante iniziative che hanno portato avanti, penso al patentino digitale nelle scuole. Penso alla voglia, alla capacità di essere andati su tutti i territori della nostra regione. Un impegno che non era usuale, che dà il senso del profondo radicamento e della voglia di ascoltare e di confrontarsi con tutti. Il Corecom è un po' un fiore all'occhiello delle nostre attività istituzionali e voglio davvero ringraziare tutti perché l'obiettivo che noi ci diamo è fare in modo che ogni singolo cittadino, da chi vive nel comune più grande a chi vive nel borgo più piccolo, possa avere accesso agli stessi diritti e credo insomma al lavoro del Corecom in questi anni si stia andando esattamente in questa direzione. Siamo molto soddisfatti del lavoro che ha fatto il Corecom in questo anno, ha interpretato le esigenze che erano emerse durante la riflessione nella quinta commissione, specialmente sul punto del far conoscere meglio i cittadini e le cittadine toscane quali sono i loro diritti nel campo della comunicazione e dell'informazione e far conoscere loro che cos'è il Corecom e quanto il comitato può essere utile a loro per far valere i loro diritti. In più è continuato il lavoro strenuo di media education con i più piccoli, con i più giovani, grazie anche alla collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e tutto il resto del lavoro prezioso che il Corecom fa per tenere alta l'attenzione sulla responsabilità che richiede comunicare, raccontare la realtà e su tutta la gestione del contenzioso per quanto riguarda le informazioni e le telecomunicazioni. Devo dire che anche il premio ai comunicatori toscani è stata una bellissima novità che speriamo diventi una tradizione importante perché consente di presentare anche ai cittadini più giovani dei modelli in campo di mestieri, nel campo dell'informazione e di modelli appunto di persone che esercitano il loro lavoro con passione, dedizione, generosità e grande senso di responsabilità rispetto alla comunicazione che è oggi una delle le azioni strategiche per stare nella vita consociata. Imparare a comunicare e comunicare responsabilmente è una funzione fondamentale, insegnare a farlo è un compito che le istituzioni debbono sentire proprio e il Corecom devo dire che in questo anno ha dimostrato di farlo con grande cura, attenzione e senso del proprio ruolo. Approvata a maggioranza la proposta di risoluzione in merito all'attività 2023 del garante dell'infanzia e dell'adolescenza. La proposta è stata illustrata in aula dal presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani. Una proposta di risoluzione che nell'esprimere apprezzamento per l'attività svolta dal garante si impegna a sostenerne le attività e anche a procedere quanto prima ad un'opera di revisione della normativa dedicata appunto al garante per l'infanzia. È stato un anno intenso quello del 2023 per quanto riguarda l'attività del garante che si è ancora una volta concentrata su tutte le funzioni tipiche che il garante assume rispetto alla tutela dei minori nel territorio regionale. Significativo è il passaggio che è stato compiuto con tutte le aziende sanitarie del territorio regionale e che ha portato all'approvazione da parte di tutti questi enti derivati del codice etico per la tutela della salute dei minori. Si sono inoltre portate avanti molte delle progettualità che erano già esistenti nel territorio regionale che connotavano l'attività del garante come ad esempio il progetto che si è concentrato sul tema dell'autismo nei minori e in ogni modo è proseguita l'attività del garante della dottoressa Bianchi sia per quanto riguarda la convegnistica a livello nazionale sia per quanto riguarda l'attività seminariale. In particolare il contributo portato dal garante alla formazione dei tutori dei minori stranieri non accompagnati in quanto l'elenco è stato aggiornato e implementato di ben 38 unità. 20 voti favorevoli PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Noi da sempre sollecitiamo il garante dell'infanzia a fare meglio e a fare di più. Non nascondo il livello di critica che ho sempre portato avanti nei confronti del garante e non ho mai condiviso fino in fondo la politica del garante dell'infanzia perché ritengo che questo debba essere un servizio che possa dotarsi di un'attività maggiore, propulsiva e abbia delle possibilità di agire in termini non soltanto di proposta ma anche di riconsoluzione delle problematiche che oggi nell'infanzia ci sono non soltanto nella nostra regione, sono ovunque, ma siccome noi l'abbiamo istituito deve essere svolta un'attività più puntuale, più di massima attenzione, più di vicinanza nei confronti delle istituzioni comunali e più propulsiva nei confronti degli enti regionali. Quindi il nostro è un punto di caluta critico, non da ora, da sempre, rispetto a un'attenzione che vorremmo maggiore nei confronti dei ragazzi e soprattutto dei minori. Molto soddisfatti, il garante dei minori, la dottoressa Bianchi è una persona seria, molto preparata e anche molto appassionata del suo ruolo, sta facendo un lavoro immenso e anche con una carenza di organico che ormai è endemica, a cui nessuno provvede e che invece dovrebbe trovare una soluzione. Anche questo corso che lei ha fatto per questi nuovi tutori di minori non accompagnati svolge una funzione fondamentale. Questi nuovi tutori svolgono dei bellissimi percorsi di accompagnamento nei casi che gli sono stati affidati. Astenuti, Lega e Gruppo Misto Il tema dell'infanzia è un tema che ci sta particolarmente a cuore, siamo preoccupati perché consideriamo che negli ultimi tre anni c'è stato un calo demografico importante, meno di 17 mila minori in Italia e in Toscana e per quanto riguarda anche la povertà relativa c'è circa il 10% dei ragazzi toscani che sono in condizioni di povertà relativa. Noi vediamo un garante per l'infanzia un po' distaccato, una sua sorta di autoreferenzialità, a volte ripete le stesse identiche pagine nel corso della sua relazione e lo vorremmo molto più presente in Toscana. Ci sono delle segnalazioni, una parte corposa nella relazione circa 220 anche per argomenti molto seri come l'inadeguatezza degli ambienti scolastici, le tariffe massime per autobus e per menza che addirittura hanno portato molti bambini a chiamare scuole. Però non vediamo dei dati aggregati, non capiamo poi da dove provengano questi dati. Quindi c'è da lavorare sicuramente per mettere anche più personale a disposizione di queste figure per poter operare meglio. Il garante dell'infanzia sta lavorando bene, mette in evidenza anche qui delle pecche che sicuramente esistono. La garante dell'infanzia manca sempre, cioè lei dice sempre che gli mancano persone, gli manca personale per poter fare quello che vorrebbe fare. D'altra parte si deve fare con quello che abbiamo a disposizione. In ogni caso direi che il lavoro è un lavoro incommiabile per quello che ha potuto fare. Persia-Iran, un viaggio, un'esperienza di vita. Inaugurata negli spazi espositivi Carlo Azzeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso, la mostra fotografica di Sauro Bani, che racconta un luogo, l'Iran e il suo popolo, oltre gli stereotipi con cui spesso in Occidente si guarda questo paese. E' stata un po' una scommessa perché siamo partiti in un momento veramente particolare. Era iniziata da un po' la protesta delle donne iraniane e siamo andati là con... Vabbè, proviamo, perché ormai si era un prai biglietto e si doveva fare questo viaggio. Ed è stata veramente un'esperienza unica perché abbiamo avuto un'accoglienza incredibile con un popolo, come ho detto nel titolo, un popolo gentile, un popolo che si rifà a tradizioni millenarie di accoglienza del passaggio delle carovane. È stata veramente una scoperta ed è stato lo scoprire un popolo sottomesso da una banda di tiranni che in qualche modo... Ecco perché la proposizione di una mostra che in qualche modo vuole riqualificare un rapporto con la Persia, diciamo. Il fatto è che ho scoperto, a differenza di altri popoli islamici, e non è un popolo islamico, secondo me, che si nasconde e non vuole che essere fotografato perché gli rubi l'anima. No, io tutte le volte chiedevo gentilmente di farsi una fotografia, si mettevano a mostra e io facevo la fotografia senza nessun problema. Ma questa è stata una cosa generalizzata proprio. Ecco perché c'è tanti volti. Una mostra nata da un'idea del consigliere regionale Massimiliano Pescini, da poco scomparso, e a lui dedicata dall'artista. Questa è una mostra che ci aveva proposto, chiesto e sponsorizzato, diciamo così, Massimiliano Pescini. Ci fa particolarmente piacere, siamo particolarmente orgogliosi di poterla ospitare. È un modo veramente per pensare che Massimiliano è sempre con noi. Ci piace parlarne al tempo presente perché Massimiliano è un collega, ma soprattutto è un amico, non solo del consiglio regionale, ma di tante parti della Toscana, del Mugello, di tutto il collegio che ha rappresentato in questi anni. E siamo davvero contenti che questa mostra sia oggi qui a Palazzo del Pegaso, sia arrivata in città, come aveva promesso lui all'autore quando si erano incontrati. E ci fa piacere che il sottotitolo di questa mostra contenga la parola gentilezza, perché alla fine gentilezza è anche l'aggettivo che meglio descrive Massimiliano, il suo modo di essere uomo, di essere istituzione, di essere consigliere regionale. E quindi è davvero un pezzo di Massimiliano che oggi rivive dentro al palazzo e siamo felici ed orgogliosi che sia uno dei tanti modi con cui Massimiliano continuerà ad essere con noi fino alla fine di questa legislatura. Io seguo il lavoro di Sauro, che è un mio vecchio amico da quasi 50 anni. Ne conosco il temperamento avventuroso, l'ansia del viaggio, l'inquietudine, la curiosità. Tutte caratteristiche che in questa mostra sono evidenti. La mostra è importante, perché oggi l'Islam per noi è il grande nemico, è il grande demonio, è il male contrapposto al bene occidentale. questa mostra documenta che le civiltà vanno comprese nelle loro radici, non si può semplificare, semplificare porta la guerra allo scontro.